Ci sono momenti in cui hai un progetto nuovo, fai, sbagli, correggi, volte in cui devi rifare tutto da capo, volte in cui hai successo. Ci sono momenti in cui vieni premiato e poi la gente continua a ricordarsi di quello che hai fatto prima e che si chiede, che cosa farà dopo? Sarà così bravo da oltrepassare i suoi limiti? E poi ci sono giorni in cui ricordi a tutto il mondo che sei il numero uno. Rue della Synagogue, François Paul Journhaus, siamo qui con l'FFC, grazie alla casa madre e al supporto di GMT, la famiglia Corvo. Oggi vi raccontiamo l'orologio più entusiasmante dei giorni del Watches & Wonders. Ciao ragazzi, io sono Edoardo. In realtà questo orologio è stato presentato nel 2021 ed è stato messo nell'asta, nella famosa asta benefica Only Watch con una diversa colorazione, cinturino arancio e vi ricorderete la mano azzurra. Francis Ford Coppola è un grande appassionato di orologeria e insieme a François Paul discutono di vari progetti e di varie opportunità. In particolare Francis Ford Coppola domanda al maestro se ci sia qualcuno, se sia già stato inventato e creato, un orologio che mostri l'ora nella maniera in cui si faceva un tempo, ossia a gesti. In particolare andiamo a citare una simpatica gag che si è costruita tra i due venuta fuori parlando della parola hands che in inglese ovviamente vuol dire mani, però anche lancette. In questo caso mano è stata direttamente posta sul quadrante eliminando completamente le lancette. Si incontrano nel 2012 e lui, per niente ambizioso come lo conosciamo, decide di cimentarsi in questo progetto per poi lanciarlo all'Holly Watch 2021. L'idea iniziale quindi è particolarmente stravagante, l'idea di riuscire a segnare 12 ore con le dita di una mano che ovviamente sono 5. Il progetto lo ricopre completamente ed è il solo ed unico a fabbricare questo orologio ovviamente anche da un punto di vista di design. L'attenzione dei dettagli di François Paul è sempre ai massimi livelli per cui decide di creare questo segnatempo da zero e di essere il solo e unico a seguire questo progetto. In effetti vi rendete conto sono passati due anni tra il primo FFC e l'FFC che abbiamo qua. Quindi il primo lanciato nel 2021 e il secondo nel 2023. Parliamo di probabilmente 5 orologi creati all'anno per cui qualcosa di molto molto esclusivo, qualcosa di una tiratura davvero limitata. Non si può parlare di una produzione futura, non si conoscono le quantità, quindi prendiamo quello che abbiamo oggi e godiamocelo al 100%. Nel 2014 parte il progetto Starting Point, quindi come fare? Uno dei figli di Journe è appassionato di storia e lo aiuta in questa ricerca di informazioni per creare una sorta di automazione. Ambrose Paré è un chirurgo, era un chirurgo del 1500, a cui dobbiamo un sacco di scoperte appunto da lui fatte. François Paul prende spunto da alcuni suoi schizzi per andare a riprendere la conformazione della mano per poi riportarla sul suo orologio. Intanto andiamo a vedere l'orologio, il risultato. La cassa è un 41 mm con spessore 10.7. Per chi è attento e ha seguito il percorso di Journe sa che questi numeri sono ricorrenti. Di che cosa vi parlo? Il calibro in effetti è il 1300.3. Che cos'è? È il calibro dell'Octa, quindi il movimento automatico, il leggendario movimento automatico geniale lanciato da François Paul nel 2001, di cui abbiamo parlato con Jacopo Corvo nella nostra ultima chiacchierata sul brand. Perché dico geniale? Non entro nel merito in maniera troppo specifica, ma questo calibro è stato pensato per supportare delle complicazioni aggiuntive senza modificare niente né lo spessore della cassa né le dimensioni di questa, aggiungendo solamente queste sulla main plate. Partendo da questo punto, mi piacerebbe adesso che vedessimo il funzionamento di questo orologio, quindi come segna l'ora? Allora, la parte della minuteria è costruita in maniera differente, quindi abbiamo eliminato la lancetta dei minuti per far spazio alla mano che è posta nella parte centrale del quadrante. Quindi la minuteria è segnata con un puntatore messo al 12 e un disco che ruota in maniera periferica posto su un cuscinetto a sfera extra plat. Vediamo però come vengono mostrate le ore, che è la cosa che onestamente qua ci interessa. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Come dicevamo, la mano prende la maggior parte della nostra attenzione. Cosa succederà quando scattano le ore? Questa è la domanda che io mi sono fatto la prima volta che ho visto questo orologio. Si fa spazio alla mano e a tutti quelli che sono gli ingranaggi spostando, come dicevamo prima, la minuteria per crearne leggibilità e darne anche una più facile distribuzione dell'energia e salvare questa energia. Sarà il tema ricorrente di questo video. In effetti, se ci pensiamo, muovere due lancette richiede una determinata quantità di energia. Per muovere delle dita, in questo caso, chiaramente in maniera meccanica, l'energia necessaria è assolutamente differente. Per cui, in questo caso, la necessità di salvarla è molto importante. Infatti, il motto di Journ, quando ha creato e pensato questo orologio, è Save Energy Without Adding Any. Quindi, salvare energia senza doverne aggiungere altra. Andando a vedere nel pratico perché vi dico che è richiesta tanta energia, il pollice si muove in questa maniera qua e le altre dita non si muovono in questa direzione, ma, diciamo, salgono e scendono perché, ovviamente, lo spazio richiesto per la costruzione di questo meccanismo è chiaramente limitata dalla dimensione di cassa e di spessore. Per cui, abbiamo detto, il pollice fa così e le dita vanno in su ed in giù. Quindi, tornando alla parte dell'energia, il movimento octa ha un bariletto che conferisce una riserva di carica di 5 giorni, quindi qualcosa di molto abbondante. Anche se, in questo caso, non basta. Il movimento di un octa tradizionale ha un bariletto con una riserva di carica di 5 giorni, che è già tantissimo avendo un bariletto solo, se ci pensate. Quindi è sufficiente, più che sufficiente, per muovere le lancette in un octa normale, passatemi il termine. Però capite bene che per muovere le dita di una mano, in questo caso, in automazione, è completamente diversa l'energia richiesta. Per cui, cosa ha deciso di fare François Paul? Ha deciso di aggiungere al movimento octa, al calibro dell'octa, un remontoir de Galité. Il remontoir de Galité è un meccanismo furbo che François Paul utilizza in diversi dei suoi orologi. Come funziona? In maniera pratica, senza entrare troppo nel tecnico. Il remontoir de Galité assorbe l'energia del bariletto, quindi l'energia passa dal bariletto al remontoir de Galité che poi la smista dove è necessario. Perché accade questo? Per una distribuzione più efficace dell'energia. Sappiamo che quando la molla del bilanciere è caricata al massimo, quindi è completamente compressa, inizia a rilasciare energia con una certa intensità. Questa però non è la stessa intensità di quando la molla è quasi tutta sciolta. In questo caso, ripeto, per un octa normale questo può essere più che sufficiente, ma per una mano di questo calibro è qualcosa di diverso. Quindi che cosa accade sul nostro FFC? L'energia passa dal bariletto al remontoir de Galité. Il remontoir de Galité si carica, come se fosse una vera e propria molla, per 40-45 minuti. Gli ultimi 15 minuti dell'ora conserva l'energia per poi sprigionarla completamente al sessantesimo minuto, momento in cui deve azionare il meccanismo e muovere la mano. Quindi l'energia dove passa? Passa attraverso tutta una serie di camme, ruote e pignoni sulla parte sinistra della mano. Tutta questa parte del meccanismo del calibro è realizzata in titanio. Questo perché per salvaguardare ovviamente il peso di tutto il movimento, quindi il titanio è un materiale estremamente leggero, ma dall'altro lato è anche robusto, perché immaginatevi comunque degli scatti. Questi scatti ovviamente, oltre a richiedere energia, creano anche un discreto attrito. Le proprietà del titanio vanno a proteggere queste camme e queste ruote salvaguardando la durata nel tempo di questo meccanismo. Le camme in particolare sono 10, quindi cosa vuol dire che sono 2 per mano. La complessità di questo oggetto voi dovete capire che è davvero assurda, perché a parte la zona in cui vediamo, che è quella a sinistra della mano, succede qualcosa anche sotto la mano stessa. E immaginate anche il tipo di spazio che viene utilizzato al di sotto della mano. Adesso io la tengo aperta, ma per farvi capire il concetto, immaginatevi il pugno chiuso. Le dita sono messe così, quindi sono tutte molto vicine e devono anche essere molto piatte per non andare a invadere altri spazi, non toccarsi e restare all'interno di uno spessore e delle dimensioni di cassa. Sarebbe tutto più facile se la mano fosse trasparente in questo caso, perché si vedrebbe completamente il meccanismo. Cercheremo adesso di farvi vedere nella realtà come funziona, per darvi una misura della complessità di questo oggetto e della sua bellezza. Io credo che questi casi siano proprio i momenti in cui assistiamo a delle opere d'arte, delle vere opere d'arte. Chiaro che l'orologeria è molto associata a quel tipo di mondo, però in questo caso mi dà proprio l'idea che queste due realtà siano davvero davvero vicine. Parlando anche in questo caso, la prima volta che ho visto questo orologio non mi sono tanto reso conto della difficoltà di incidere il titanio con questa capacità, con questa delicatezza, con questa maestria. Passa in secondo piano perché ti concentri sul meccanismo, sull'energia e su tutto il resto. Ma vi invito una volta in più, sempre parlando d'arte, a guardare la manualità di questo lavoro, di quest'opera. Incidere il titanio deve essere un lavoro che non auguro nessuno perché il titanio lo conosciamo, è un materiale estremamente rigido. Inciderlo deve essere molto molto complicato. Guardate la capacità dell'artista, da qualcosa di piatto, dare la sensazione di tridimensionalità. Guardate il dorso della mano, guardate la parte del polso, come è lavorata, con che tipo di finitura. L'attenzione ai dettagli in questo caso è davvero qualcosa fuori dal comune. Quindi spero che vi sia chiaro la difficoltà, la complessità quantomeno, di come si possa soltanto immaginare qualcosa del genere e di come si possa poi crearlo e metterlo sotto forma fisica, sotto forma di orologio. Per me è stato un grandissimo piacere, ma soprattutto un grandissimo onore essere qua a potervi raccontare questo orologio. Se avete imparato qualcosa, iscrivetevi al canale, ci saranno molte più informazioni a venire. Per me è stato ancora un piacere, io vi saluto, ciao presto! Ciao!